Abitarin è uno sviluppatore residenziale, quindi noi realizziamo case con un'attenzione particolare al mercato delle famiglie, quindi il nostro prodotto si rivolge principalmente al mercato di chi utilizza la casa, quindi le famiglie che per qualsiasi motivo decidono di comprare casa a Milano, ci concentriamo su Milano e svolgiamo un'attività di pura rigenerazione urbana, rigenerazione urbana vuol dire andare a trovare nella città quegli immobili o quei complessi immobiliari dismessi, quindi non più utilizzati, tipicamente di natura industriale o di trasformazione, vengono demoliti e poi costruiamo dei nuovi edifici eleganti con una grande attenzione al prodotto e grande attenzione alla parte di design e quindi alla parte di abitative interna. Quindi la rigenerazione urbana è un'attività fondamentale per una città come Milano che dal dopoguerra oggi è cresciuta con una conurbazione fra industria e abitazione. Milano ancora oggi è una città che ha tantissimi immobili industriali, immobili non residenziali, dismessi, quindi non più in uso, spesso questi immobili sono una ferita, sono una ferita per la zona, per il quartiere perché non sono più decorosi, non sono decorosi nell'aspetto, non lo sono neanche in termini ambientali perché spesso ci si trova amianto, ci sono dei problemi ambientali, delle tematiche ambientali da bonificare e a volte sono anche magari occupati da sbandati piuttosto che un problema comunque di occupazione non corretta di spazi non più agibili. Quindi la nostra attività di rigenerazione è proprio quella di identificare questi immobili nella città, acquistarli e poi con dei progetti condivisi con la pubblica amministrazione realizzare degli immobili residenziali. La parte di rigenerazione di Milano City Village è in linea con quello che abbiamo detto prima, era un vecchio immobile dove c'erano delle centrali telecom con delle antenne, un immobile non più in uso da oltre 15 anni, l'abbiamo acquistato e abbiamo fatto un nuovo progetto tra l'altro molto particolare con la ricreazione di una corte urbana, quindi stiamo dando anche grande valore architettonico e urbanistico a tutta quella zona, è un'area mediamente grande perché sono 13 mila metri quadri e quindi quello che era un vecchio edificio grigio molto cementificato che occupava tutta la zona lascia spazio a due palazzine che ricreano una corte urbana con più di 6 mila metri di parco verde e quindi rimane nel contesto abitativo della zona e soprattutto poi dei condomini di Milano City Village uno spazio privato verde in continuità con quella che è la via Tacito su cui sorge il nuovo progetto. All'interno dello sviluppo di Milano City Village poi c'è lo sviluppo di altre aree adiacenti nello stesso quartiere, quindi nello stesso isolato c'era la fabbrica della Plasmon che abbiamo acquistato e un'area adiacente che aveva dei problemi ambientali che abbiamo acquistato recentemente, quindi lo sviluppo di Milano City Village vedrà poi la realizzazione anche di altri progetti limitrofi adiacenti per rigenerare completamente un quartiere molto vicino a Porta Urbana totalmente residenziale con grande qualità abitativa ma che aveva proprio questa ferita con questi immobili o questi terreni inutilizzati. Ci rivolgiamo al mercato delle famiglie, facciamo progetti nelle zone semicentrali della città che sono quelli che offrono anche maggiore disponibilità di immobili dismessi da rigenerare. Siamo su una fascia di mercato media anche se poi il contenuto qualitativo e ispirazionale del nostro prodotto è molto alto, lo si vede dai progetti architettonici, dalla qualità dell'offerta. Quindi è un mercato per le famiglie, i nostri clienti sono persone che abitano la casa e che quindi valorizzano molto la possibilità per la prima volta di realizzare una casa totalmente su misura. Quindi siamo abituati a considerare in qualche modo il massimo nell'acquisto sull'automobile, sul vestito, la possibilità di personalizzarlo, averla totalmente su misura. nell'investimento, nell'acquisto più importante di una famiglia, la casa, questa cosa era dimenticata. Invece noi abbiamo riportato centralità sulla famiglia, centralità sul cliente, dando a loro per la prima volta in Italia la possibilità di avere un prodotto nuovo totalmente su misura. Quindi non solo la scelta delle finiture, piastrelle, sanitari, tutto quello che fa parte della casa, ma proprio anche il layout stesso della casa, quindi l'organizzazione degli spazi per arrivare fino alla parte di arredo. Quindi chi compra casa da noi sa che partendo da un appartamento ideale può trasformarlo, cambiare nel layout, scegliere totalmente le finiture e alla fine di questo processo, l'interior design gestito direttamente da noi, avrà anche una casa totalmente arredata. Vitarina, che è pubblica e quotata a Lime, ovviamente comunica a tutti quelli che sono i propri piani e i progetti futuri, ha da poco annunciato che ha raggiunto complessivamente una capacità di sviluppo di 1200 appartamenti nei prossimi 4-5 anni, quindi oggi con questi 1200 appartamenti in sviluppo a Vitarina, è uno dei più grandi sviluppatori milanesi, lanceremo un nuovo progetto questa primavera, ma per noi è un'attività continuativa, quindi il progetto è semplicemente una tappa di un percorso continuativo che mira a far diventare lo sviluppo residenziale un'attività industriale continuativa, quindi attorno al brand Vitarin continuerete a vedere ogni anno almeno uno o due nuovi progetti nelle zone semicentrali della città.